Oggi ho pensato di portarvi un po' di Crystal Triggers o Glass Triggers, quindi Triggers di vetro, perché mi sembrava un'idea piuttosto interessante, quindi ho radunato tre degli oggetti che preferisco e sentiremo quali suoni ci regaliranno, sono degli oggetti piuttosto importanti per vero. Oh, hey, ciao, come stai? Ho capito. Ieri com'è andata? Ok, ok, bene, sono davvero felice che tu abbia trascorso una così bella giornata. Sì, oggi in effetti c'è meno sole di ieri, ieri faceva anche molto più caldo, sì. Certo, certo. A scuola tutto bene? Però, bene, bene. E quella verifica che avevi? Mi avevi parlato di una verifica molto importante. Bene, bene. Allora è andata meglio di quello che tu sperassi. Però, beh, complimenti davvero. Io in ultima domanda sono sempre stato negato. Già, però sono contento che non sia lo stesso anche per te. Sì, ho capito che ieri a te piace molto, però, però dai, è comunque un bello, è comunque un sollievo per te essertela cavata, no? Come dici? Ah, ne hai un'altra la settimana prossima? Stai studiando? Mi raccomando, guarda che importante. Eh sì. Ho capito, ho capito che non ti piace, però, insomma, comunque, quali sono le tue materie preferite a questo punto? Ok. Ah, ti piace molto geografia? Sì, a me era una materia che mi era abbastanza indifferente in realtà. Sì, sì sì sì. A me piaceva molto artistica quando c'era arte. Sì, poi si è trasformata con diversi nomi, diciamo così, è diventata pittura, pittoriche, arte applicata, storia dell'arte, quindi tutte quelle cose lì. E con i tuoi amici come va? Li vedi spesso? Ok. Bene, bene. Buono a sapersi. E Marco come sta? Bene, sono contento, sono contento. Questo, in quest'ultimo periodo come, come ti sei sentito? Ho capito. Beh, sai, è normale a volte avere delle giornate un po' così. Sì sì, è normalissimo. Però anche a me capita. A volte semplicemente non si ha voglia di fare delle cose e non si capisce bene il motivo. Però potrebbe anche essere un po' di stress. Esatto, esatto. Si è normale, poi con il ritmo di vita odierno è quasi scontato che molto spesso a causa dello stress noi non riusciamo a, così, a fare determinate cose. Ho capito. Ah, quindi tu in una giornata avresti voluto fare tutte quelle cose? Mi sembrano un po' troppe. Sì, no, io sono sincero, lo sai che ti dico sempre la verità, mi sembrano troppe. Anche caricarsi di tante attività durante la giornata forse non va molto bene. Già. Non ci hai mai pensato? Sì, no, lo so, anch'io sono un po' così. Ti dico, a volte vorrei fare di tutto però non sempre è possibile, ecco. Eh, sì, sì, no, lo so, per quanto tu possa organizzarti ma a volte non si trova davvero il tempo, magari si fanno delle previsioni sbagliate a volte su quanto ci si mette a fare una cosa e quindi alla fine dopo un po' si rischia di perdere la concentrazione, quindi la bussola interiore, ecco. E però è normale comunque non ti preoccupare, fa parte, fa parte della nostra esistenza, della nostra vita, quindi non allarmarti troppo per questo va bene? D'accordo? Esatto, esatto. Hai già fatto tutti i compiti per la settimana prossima? Sì? Sì? Wow. Ah ok, ti mancano solo un paio di materie. Bravo però. Mmm. Bene. Ne sono davvero molto lieto. E per le vacanze hai già pensato a cosa farai? Mmm. Ah. Una settimana al mare? E dove andate? Ma sai che quasi quasi ci faccio un pensionino anch'io? Sempre se posso eh, ci sono invitato. Va bene, va bene, sì. Dai che scherzo. Sì però tu non devi fare come il tuo solito, che ti prendi tutto il bungalow per te perché so come fai dopo. Già. Voi volevate andare in bungalow vero? Ok. Com'è non me ne hai mai parlato di questa cosa? Ah, l'avete decisa nell'ultimo momento. D'accordo ho capito, ho capito, va bene, va bene, va bene. E di solito mi dici sempre tutte queste cose. Certo. A casa come va? Bene bene. Ok. Ok, ok. Quindi tutto a posto. Non hai più litigato con i tuoi genitori? Ok. Sono molto contento di questo. Beh, sì beh, diciamo che l'ultima volta in effetti avevano un po' esagerato. Però lo fanno per il tuo bene sai. Ricordati questo. Già. È normale che si preoccupino per te. Lo so che molto spesso ti chiamano troppo, anche a me succede, però è normale perché, perché si preoccupano, perché ti vogliono bene. Fidati, lo so che è una rottura, però è così, è normale, è normale, credi a me, è normale. È tutto normale. Certo. E invece col nuoto come procede? Ok, ho capito. Sì, mi ricordo l'ultima gara. Andavi veramente fortissimo. Sì. Esatto, esatto. Veramente, mi ricordo che gli hai dato la paglia a tutti. Sì, sì, ma mi ricordo, ma avevi vinto di un sacco, con un sacco di vantaggio, tra l'altro proprio, non mi ricordo più se era una vasca, o forse un po' meno, però avevi veramente tanto tanto vantaggio, me lo ricordo, sì. Sì, infatti, infatti, pensavi che me lo fossi dimenticato. Ho capito che ho una memoria corta, ma non così tanto. E dai, devi avere un po' più di fiducia in me, non credi? Ecco, ecco. Certo, ho capito. Questa mi è nuova, per biologia. Ho capito, ma è una materia che ha iniziato quest'anno. Oddio, veramente. La professoressa non fa altro che andare avanti a caso, senza spiarvi bene le cose. E quindi vuoi prendere una insegnante di ripetizioni. Accidenti, non sono molto bravo in biologia, altrimenti ti avrei dato una mano io. Beh, posso sempre farlo, comunque, magari nei momenti liberi. Già. Sì, potrei darti una mano io se dici, assolutamente, assolutamente, quando posso, anche se sì, non è che sia molto bravo neanche in quella materia, ma magari insieme potremmo studiare bene e capire bene come fare. Esatto, esatto. Esatto. D'accordo. Ma, ma praticamente lei com'è che fa? Scusa, cosa cos'è che non... Cioè, tutta la classe ce l'ha con lei quindi? E' un bel problema. Ma quindi lei fa interi capitoli e poi interroga senza nemmeno approfondire o senza nemmeno chiedervi se avete capito? Sì, non si fa così, lei va avanti con il paraocchi, probabilmente non ha molta voglia di insegnarvi le cose a dovere però doveva scegliere un'altra professione a mio avviso. Eh sì, pazzesco, è la prima volta che sento una cosa del genere, ti credo che hai bisogno di qualcuno appunto che ti faccia ripetizioni però non sarebbe molto giusto perché comunque lei dovrebbe insomma starvi più dietro, non andare così a caso addirittura. Ma lei, ma lei quindi non vi fa domande, non lei spiega e basta, veloce anche, non vi chiede se avete capito, ma non vi interroga neanche? Ah, però vi interroga è un metodo un po' strano. Ho capito, molto molto strano come cosa. Sì, non è da tutti i giorni comunque sentire una cosa del genere. Ho addirittura beccato gente con i bigliettini, beh ma è normale, se spiega male alla fine la gente deve arrangiarsi come può, non può aspettarsi la perfezione sempre. Ma quindi lei com'è che fa, lei va avanti, lei spiegami un attimo. Ok, ho capito, ho capito, quindi lei proprio inizia la lezione e va avanti a macchinetta a spiegare come se sapesse le cose a memoria praticamente, magari le sa a memoria. Ok, ok, ho capito, e lei va avanti e non, cioè come se niente fosse praticamente, come se se le stesse ripetendo a lei le cose. Ok. Io non so veramente cosa dirti, è una cosa veramente pazzesca, assurda. Speriamo che l'anno prossimo la cambino questa insegnante. Mamma mia. Eh sì, sperate proprio. Ho capito, ho capito. A parte questo, per il resto, sta arrivando, sta arrivando il weekend, cosa hai intenzione di fare? Ah, volevi andare a giocare a bullying? Sì sì, beh sì, ci andiamo. Va bene? Certo, certo, va benissimo. A che ora volevi andare? Di sera? Vabbè sì, come sempre dopo cena, giusto? Ok. Sì, mi piace molto. Sì, lo so che mi batti sempre. Però, d'altra parte, non so quante volte tu sia andata. Eh sì, i fatti, i fatti. E adesso? Stiamo calmi eh, stiamo calmini. Stiamo calmini e non ci allarmiamo troppo ecco. Adesso? Sì, vabbè, ho capito, ho capito che sei arrivato a 100 punti, ma... Ai ai ai. Va bene, va bene, per carità, per carità, va bene, va bene. Perfetto, perfetto. Che fuori che sei. E che mi dici di ball? Come sta? L'avevo visto un po' giù la settimana scorsa. Ho capito. Hai invitato anche lui al bowling? Ok, bene, bene. Eh, lui è bravo, è bravo a giocare al bowling. Quindi ti darà una bella ridimensionata. Dai, scherzo, scherzo, scherzo. Eh beh, ma scusa eh, dopo quello che hai detto. Eh, allora, allora, vedi, vedi, devi batterlo, devi batterlo, altrimenti non è vero niente. Non è vero niente, altrimenti. Guarda che ti chiamo l'insegnante di biologia eh, stai attenti. Ok, 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 scusa, scusa, no, 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 va bene, va bene, per carità, per carità di Dio, ok? Ok, no, no, no. Ma come ti ho fatto prendere paura? Ma no, dai, non è possibile. Ahiaiai, allora, nei prossimi giorni qualche, qualche altro evento speciale. Ah, è vero che c'è il compleanno di Harry, anche già già, me ne ero completamente dimenticato, ma io con le date del resto sono un disastro. Già, già già, sono veramente un disastro atomico, infatti ho tutte le date salvate nel cellulare. No, ovviamente il tuo compleanno me lo ricordo, però quello degli altri, faccio un po' fatica in effetti. Già, già. Tu però, shhh, non dirlo a nessuno. No, vabbè, in realtà non è che sia un segreto di stato eh, lo sanno bene o male tutti perché glielo ho detto a tutti, quindi ogni volta che si entra nell'argomento è un vero disastro. Oh, senti, senti, ha parlato e riesci veramente a ricordartele tutte? Va bene, no, buon per te, buon per te, per carità, buon per te. Io, io sì, da quel punto di vista lì, insomma, sono veramente un disastro. Eh, diciamo che è una mia debolezza, un mio difetto, sì, in effetti. Eh, che ci vuoi fare, che ci vuoi fare? Lo so che mi vuoi bene lo stesso, lo so, anch'io ti voglio bene lo stesso. Ah, non lo so, forse per aver esagerato un po' con le tue doti di bullying. Dai che scherzo, sto scherzando, ma ti pare che sia serio? Ma dai, mi conosci, cioè lo sai che scherzo quando faccio così, no? Sì, ok, ok. Vabbè, guarda, ti credo sulla parola. Va bene, mi farai vedere. Oh, mamma mia, ecco, 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 adesso ricominciamo. Allora, ma sì, ho capito, ho capito, ho capito. Ma guarda che è bravo a giocare a bullying lui, è accidenti. Ah, signore, va bene, va bene, ma ho capito, ma io non ho dubbi su quanto tu sia, capito? Ok, sì, no, lo so, lo so, lo so che tu conosci bene, sai giocare bene a bullying, per carità, ma lui è veramente bravo, capisci? E va bene, vedremo, vedremo, mamma mia, aiuto! C'è un campionato, assolutamente, 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 campionato e via. Ma dai, che fuori che sei! Manco avessi detto che non sai neanche a che tirare. Ma no, ma sto scherzando, non sto dicendo su serie. Sto scherzando, ti sto prendendo in giro, va bene, ok? Benissimo, benissimo, ok, ti sto prendendo in giro, sto scherzando. Allora va bene, rimaniamo d'accordo per le nove e mezza, va bene? Ok, ok, molto bene, molto bene, ci sarò. No, ok, no, finardi sera, ok, ma se vuoi ci guardiamo un film caso vuoi. Sì sì sì, per me va bene, per me va bene, ok. Ah, sceglielo pure tu, sceglielo pure tu, a me va bene qualsiasi cosa. D'accordo, ottimo. Allora va bene. Allora va bene, ciao. Allora va bene.